Napoleone e le donne, anzi, oggi parleremo delle sorelle di Napoleone. Le donne hanno avuto un ruolo importante nella vita di Napoleone, a cominciare dalla madre Letizia Ramolino, che influenzò molto il carattere del figlio e che la qualcosa venne testimoniato dallo stesso Napoleone a Sant'Elena. Per passare poi alla passione, alla passione della sua vita, della sua vita giovanile, cioè a Giuseppina, le lettere di fuoco appassionate che il giovane Napoleone impegnato, la sua prima grande impresa, la prima campagna d'Italia, restano nella storia delle lettere d'amore dei grandi. Per continuare poi con Maria Valeska, la contessa polacca, che gli diede un figlio e che ebbe un ruolo importante nella storia, perché proprio quel figlio che diede a Napoleone diede anche a buona parte la certezza di poter procreare. E questa circostanza comportò il divorzio da Giuseppina e il successivo matrimonio con Maria Luisa. Ma di donne importanti nella vita di Napoleone ce ne sono state tante e oggi mi voglio concentrare sulle sue tre sorelle, Elisa, Paolina e Carolina. Elisa nacque da Giaccio nel 1777, venne battezzata come Maria Anna, ma poi tutti quanti la chiamavano Elisa. Si sposò ben presto con un giovane militare, Felice Pasquale Baciocchi, che non incontrava certo il favore di Napoleone. Forse fu proprio questa la ragione per cui nella spartizione di regni che fece Napoleone tra fratelli e sorelle a Elisa toccò la parte minore. Non aveva alcuna stima Napoleone di Baciocchi, per il quale spesso diceva In realtà Elisa era forse la più intelligente tra le tre sorelle di Napoleone, dotata di grosso acume, di discreta ambizione. E prima le venne assegnato il Principato di Piombino, poi nel 1805 la Repubblica di Lucca ed infine nel 1809 il Gran Ducato di Toscana, per cui divenne Gran Duchessa di Toscana. Così come accade per gli altri fratelli, anche Elisa ebbe degli scontri con il più illustre fratello Napoleone perché Napoleone intendeva governare tutti questi regni principati, Gran Ducati da lontano e intendeva imporre le proprie idee ai suoi fratelli e alle sue sorelle. La qualcosa non sempre riusciva. Cioè i parenti di Napoleone una volta che si insiedevano su questi loro possedimenti volevano regnare autonomamente pensando di averne la capacità e questo inclinò un po' i rapporti tra i due. Alla caduta di Napoleone Elisa evitò in Austria, poi si trasferì a Villa Caprare a Trieste e infine in una casa di campagna a Cervignano, in Veneto. Non sopravvissa Napoleone perché morì nel 1820 a solo 43 anni. La sua salva, le sue spoglie mortali, sono seppellite presso la Basilica di San Petronia o a Bologna. Passiamo alla sorella preferita di Napoleone, a Paolina o anche Paoletta, così come veniva chiamata. Paolina era l'unica delle sorelle a cui non interessava per nulla il governo, gli affari, la politica. Paolina era una viverra, voleva vivere, voleva godersi la vita ed è rimasta famosa, a parte la statua di Canova, per i suoi numerosissimi amanti. Ella si sposò ben presto quando aveva 17 anni con un generale Leclerc. Anche in questo caso Napoleone non era contento di questo sposarizio, ma ha consentito di buon grado. Nel frattempo Paolina comunque tradiva il marito a più riprese. Nacque un figlio dal matrimonio con Leclerc, Dermid. Lui, Napoleone del Mid, era un nome che veniva da Ossian. E questo siamo nel 20 aprile del 1798. Charles Leclerc nel frattempo viene mandato da Napoleone a sedare una rivolta a Santo Domingo, probabilmente anche per allontanare Paolina da Parigi e dai suoi numerosissimi amanti. Siamo nel dicembre del 1801. A Santo Domingo Paolina non riesce ad integrarsi, il clima è pessimo, la febbre gialla, tante malattie, ci sono nell'iso, anche lei viene colpita in parte da queste malattie. Ma in realtà quello che muore è il marito, che prende la febbre gialla, e che nel dicembre del 1802 muore. Il viaggio di ritorno è ben triste, perché Paolina deve rientrare sulla stessa nave, imbarcazione in cui c'è il feretro del marito. Torna in Francia e si risposa. In questo caso è il delegato del Papa a Parigi, il cardinale Caprara, Giovanni Battista Caprara, che suggerisce a Napoleone di far sposare Paolina con un principe della nobiltà romana. La scelta cade su Camillo Borghese, e i due si sposano e siamo al 28 agosto del 1803. Inizialmente i rapporti tra Camillo e Paolina sono buoni, i due non vi sono nemmeno tanti tradimenti, vanno d'accordo. Poi accade che si ammala Dermid, il figlio, e quindi è buone. Paolina non riesce a perdonare al marito la morte del figlio, perché lo incolpa avendo il principe borghese portato il piccolo dallo zio Luciano a Canino in una zona che veniva ritenuta piena di malaria, per cui pensa che la malattia del figlio sia venuta da questa scelta del marito, quindi i rapporti tra i due si raffreddano e i due vivono in pratica da separati, distaccati. I rapporti tra Camillo Borghese e Paolina si diventano migliori proprio nell'immediatezza della morte di Paolina, dove il principe borghese si rifà vivo. Dopo la caduta di Napoleone, dopo la prima abdicazione, Paolina, che è la preferita di Napoleone, lo segue all'isola d'Elba assieme alla madre Letizia. Quando c'è la seconda abdicazione, l'esilio definitivo a Sant'Elena, ella si offre di seguirlo. Chiaramente gli inglesi vietarono questa prospettiva. Si trasferì a Roma, in una residenza nei pressi di Porta Pia, oggi sede dell'ambasciata francese presso la Santa Sede, questo palazzo Bonaparte, una bellissima palazzina, e muore nel 1835. Passiamo a Carolina, 1825. Passiamo a Carolina. Carolina nasce nel 1782. Così come per dire, Napoleone a Sant'Elena veniva considerata un po' la cenerentola fra le sorelle, diciamo quella meno dotata, più frivola, ma in realtà Carolina poi si dimostrò in maniera diversa. A 16 anni intese sposare Gioacchino Murat. Anche in questo caso, Napoleone non è che era troppo d'accordo, cercò di rimandare il matrimonio, ma i due vollerò per forza sposarsi e quando aveva 18 anni, Carolina sposò Murat, siamo al 20 gennaio del 1800. Molto ambiziosa, così come il marito, divenne gran duchessa di Berghecleve nel 1806 e poi regina di Napoli, regina consorte di Napoli il 1 agosto 1808, quando Murat appunto fu nominato re di Napoli e il fratello di Napoleone Giuseppe passò a diventare re di Spagna. Carolina si impegnò anche lei molto a collaborare col marito nel governo della città di Napoli, contribuì ad abbellire le residenze reali, in particolare a modo quella di Capodimonte e diede grande impulso anche agli scavi di Pompei. Quando Napoleone cadde in disgrazia, Carolina e Gioacchino Murat cercarono di salvare il loro regno e quindi proposero all'Austria di schierarsi con loro contro Napoleone. Chiaramente questa tesi, questa proposta non venne accolta. Durante 100 giorni Murat avrebbe voluto raggiungere Napoleone ma Napoleone non poteva perdonare il tradimento del cognato. Conosciamo bene il carattere di Napoleone, un tradimento era per sempre, per cui anche se sapeva bene che Murat gli poteva essere utile e lo sarebbe stato a Waterloo quando al comando della cavalleria perché sappiamo i disastri che coraggioso ne fece durante la battaglia di Waterloo malgrado ciò rifiutò l'avance di Gioacchino Murat. Gioacchino Murat il quale poi tentò un improbabile ritorno sul suo regno di Napoli approdando con un nugolo di suoi fedelissimi a Pizzocalo, però ma venne ben presto catturato dalle truppe borboniche e giustiziato. Nel frattempo Carolina anche lei emigrò in Austria, si faceva chiamare Contessa di Lipona essendo Lipona l'anagramma di Napoli nel 1830 sposò Francesco MacDonald ma poi si trasferì a Firenze nel 1835 dove morì ed è sepolta nella chiesa di ogni santi. Un piccolo particolare su Carolina che non venne mai perdonata nemmeno dalla madre Letizia tant'è vero che nel testamento di Letizia le venne assegnato solamente una collana di perle che dovevano stare assindicate le lacrime che Letizia aveva versato proprio per il tradimento di Carolina.